Union Fidi, il partner di fiducia per le aziende. Union Fidi, operante in tutta Italia dal 1975, è un Confidi che si pone come naturale partner delle piccole e medie imprese, soddisfando ogni loro esigenza finanziaria. L'accesso al credito delle piccole e medie imprese può essere facilitato dalla presenza di una garanzia sui finanziamenti che Union Fidi rilascia alla banca erogante. Union Fidi associa oltre 12.500 imprese ed è convenzionato con 65 banche e società di leasing e factoring. Garantisce sia operazioni a breve termine per il capitale circolante, sia mutui a medio e lungo termine per far fronte a investimenti in macchinari, ricerca e innovazione o per internazionalizzare le attività. La garanzia di Union Fidi permette anche di fruire delle migliori condizioni bancarie in termini di tasso di interesse. La sede centrale di Union Fidi è a Torino, in via Nizza 262-56, presso il Lingotto.